10 giubbottini, 10 pistole, poi... aspetta, cos'è che c'era qua dentro? L'MP5? Eh, quello lì... se prendi quello, prendi quello con 2-3 giubbottini. Ah, ok. Perché quello lì è veramente... Costa? Eh, non lo so, io non lo so. Allora facciamo così, i 3 giubbotti. L'MP5, le pistole, e... facciamo 5 milioni? Dimmi tu. Scendi un pochettino, perché solo l'MP5 ne vale 3, praticamente. L'MP5 vale 3 milioni? Mm-mm. Ah, non lo sapevo. Eh, purtroppo per quello, che ne ho messo solo una. No, ti giuro, non lo sapevo. Neanch'io lo sapevo la prima volta che l'ho preparato, e sono rimasto malissimo. 4? Che dici? Mm-mm. Facciamo 3-5. Non lo so. Guarda, possiamo fare 4. Mm-mm. Però facciamo il contratto, i soldi, te li passo, non ti faccio i bancose, perché non voglio che, capito, ancora... Ah, ma li passi così? Ma ci li hai gli sporchi? No, no, politica, ci abbiamo con l'ATM, figurati, facciamo un lampo, capito, che non voglio essere rintracciabile, capito. Ah, perché dici che ti rintracciano se dai tutti i soldi? Ah, capisci, da cifra del genere, sai risalto. Allora dici, no, ok, allora conviene che pure io li metto su poco alla volta, sicuro. Oppure... Ma guardi... Io posso metterli su tutti? Esatto, perché non è una transazione che... Esatto. Allora, dai, facciamo così. Però... Guarda. La targa, sai già come fare? Perché... Sì, sì, non ti preoccupare. Cioè, questa cosa non si può fare. Eh, lo so, allora, ascolta. Dimmi. Io adesso ti do il contratto, ok? Ok, sì, beh, tanto c'avevo pure io un contratto. Ah, vabbè, vabbè, vabbè. Allora, eh, facciamo il passaggio, fammi solo mettere questo qui in sicurezza che è... Cioè, mi manca solo che è... Capito? Sì, infatti. Allora. Ok. Allora, vieni qua. Stiamo per farci vedere da gente qua. Ma per te che saranno tutte la vanilla. Sì, sì, anche per quello che ho preferito store. Sì, sono tutti lì, non siamo qua tranquilli. Adesso, facciamo questo. Andiamo subito qui, alla TM. Sì, sì, sì. Ok. Ti passo tutto, riveniamo qui. Io, io... Ok, sì, vabbè. Dici che se metto la roba nel furgone mi rimane dentro o se... No, no, ti rimane lì. Mi rimane. Allora per ora la metto tutta nel furgone. Mettila lì e poi, non so, più avanti ti compri una casa o uno di questi container. Sì, sì, fai. Io ho anche container, quindi... Perché tra furgoni e casa la roba mica mi basta. Ah, la devi aprire, sai? Sì, mi scudo. Sai, no, dove è la TM? Qui, ecco, davanti. Sì, sì, lo sono. Ok, ok. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì.